E già vediamo man mano si fa interessante sul Ponte Giovanni XXIII la nostra tribuna naturale dell'aerocampo qui di Paola e al nostro pubblico qui presso la torre di arrivo che man mano si va a intremontare vicino ai nostri attenti che già hanno dato inizio il nostro programma avete già interessato alla prima gara del settore master il doppio misto con Fredy Vaginara, Canocchieri Roma all'acqua 1 ancora Roma all'acqua 2 e la decorre misto Positico all'acqua 4 Con me seguirete tra poco anche la collaborazione del nostro consigliere Paolo Raboni che mi supporterà nello sfigheraggio presente dal fotografo ufficiale di questa manifestazione con l'assistenza sanitaria qui da parte della Croce Azzurra di Sapaudia e il medico di servizio qui messo a disposizione dal comitato organizzatore qui del comitato regionale Lazio. Tutto è pronto, vediamo il perfetto orario, dovremo sicuramente recuperare dopo le prime battute della prima gara che si va dal doppio master misto, maschile e femminile, una delle care che si è inserita nei nostri programmi in questa stagione 2010. Buongiorno! Il contaggio che sta diventando un momento sicuramente significativo qui non solo nel Lazio ma a livello nazionale abbiamo visto già la prima uscita dei nostri giovanissimi nel campionato europeo dove brillante tra i nostri atleti venne otto medaglie conquistate tra i nostri giovanissimi, questo ci fa capire come è grande il sistema e tutto quello che è l'organizzazione da parte della federazione italiana canottaggio tra i vari settori. Sì, cerchiamo di dare anche delle informazioni tecniche sul tipo di imbarcazione, come abbiamo detto in quattro coppia, combine con quattro componenti, quattro atleti, con un'imbarcazione lunga circa 13 metri, con un peso intorno ai 50 milogrammi. Bene, ecco qui, stiamo passando questa prima inizio, Massimo. Allora, la lotta è subito tra il circolo campionato di Lazio e con i tipi rubri che già hanno preso il suo attaccio sia tra i miei miei che sul salone. Siamo di un po' felice, riusciamo ad avvicinarsi quasi in pente, senza l'accento di valentino, anche i compagni, e vogliamo che la distanza è su mille metri. Massimo, Piazzini, non sapete come il risultato, che ci sono venuti compensati, no? Sì, c'è un handicap da Lazio, ha quattro secondi di entrare, l'accento di valentino, quindi avremo bisogno del risparso dei cronometristi per sapere le posizioni che saranno con loro. C'è qualcuno intanto in atto, i primi tre equipaggi, Massimo, diamo subito informazioni. Allora, da Lazio sta forzando i denti, da Lazio che ha in barca nuova città, Luca Dellenice e Paolo Sota. Bene, che diamo proprio una gara molto, molto attendita. A che dispositivi, Massimo? Stiamo andando molto veloci, stiamo entrando ai 250 metri, quindi siamo nella fase della chiusura, per cui a questo punto gli atleti cercano di dare il massimo, cercano di tirare fuori tutte le energie rimaste. La Lazio continua a condurre, resistono sia la Decor che la Piter. La Lazio però sta allungando un po' di un'azione, ma c'è luce tra le fatture. La Regola sta aumentando i colpi, sta cercando di rintuzzare l'attacco della Lazio, che però continua a sferrare il suo colpo finale. ... 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